Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giancarlo Somà e sono il governatore del distretto Lions 108 IA1, un territorio che comprende la città di Torino, il Piemonte orientale Biella, Novara, Vercelli e VCO e la Valle d'Aosta. E' un'importante occasione per me e per tutti noi di portare a vostra conoscenza quanto la nostra organizzazione internazionale attiva e fa all'interno delle comunità in cui opera. Un'organizzazione internazionale presente in oltre 200 paesi in tutto il mondo con oltre 1.400.000 soci. Donne e uomini che hanno deciso, nello spirito del nostro motto We Serve, Noi Serviamo, di dedicare il loro tempo alle persone che hanno maggiormente bisogno. E' un modo di operare condiviso, un modo di operare vicino alle persone, alle comunità, insieme alle altre associazioni di servizio. E' una nostra organizzazione, il nostro distretto invece è distribuito sul nostro territorio, è diviso tra 72 club e 2.100 soci che operano in tantissime attività. Noi abbiamo attività verso il sistema medico-sanitario, verso il mondo della scuola, verso i giovani, verso l'ambiente. Ho piacere di ricordare alcuni degli eventi, delle attività più caratterizzanti della nostra associazione nel nostro territorio. 100 occhiali usati. Abbiamo recuperato 300.000 paia di occhiali e distribuiti in tutto il mondo a coloro che non potevano permettersi un paio di occhiali. Abbiamo delle attività verso i cosiddetti bambini nuovi poveri, famiglie di cui con forti bisogni economici hanno necessità per poter far crescere i loro piccoli in maniera più agiata. Abbiamo il libro parlato, un'iniziativa storica di diversi decenni che ha in carnet oltre 10.000 titoli che possono essere sentiti dalle persone non vedenti. A questo mi aggancio, perché noi siamo conosciuti come Cavalieri della Vista, mi aggancio a un altro KIC del nostro distretto Italy. Abbiamo un centro di addestramento di cani guida per cecchi, un centro di eccellenza italiano e uno dei più importanti centri di eccellenza a livello europeo. Chi può essere Lions? Chiunque. Chiunque voglia condividere con noi lo spirito di servire. Non c'è solo gente adulta come potrei essere io, ma abbiamo anche tanti giovani che noi chiamiamo i Leo, le persone che da 16 a 30 anni condividono con noi questo modello di vita e questo modello di futuro. I giovani che come sappiamo tutti saranno il nostro futuro laionistico, ma anche il futuro nella nostra società civile. Quindi chiunque voglia conoscerci, ovviamente noi siamo disponibili e aperti a tutti. Abbiamo sicuramente vissuto un anno impegnativo, un anno che ci ha costretto anche a guardare dentro noi, ci ha costretto anche a dover gestire un cambiamento. Però anche questi casi devono essere visti come un fattore di crescita e noi Lions siamo convinti che abbiamo un compito importante, che non dobbiamo subire questo cambiamento, ma dobbiamo essere artefici, promotori di un cambiamento. Per far sì, come dice il mio motto in questo mio guidoncino rappresentato dal disco di Newton e sotto tre parole assolutamente semplici, uniti, forti e credibili, dicevo per l'appunto, dobbiamo far sì che la nostra associazione, ma tutti noi, possiamo essere partecipi e protagonisti in un mondo che cambierà e che sarà sicuramente migliore, grazie a tutti noi Lions, ma soprattutto anche grazie a tutti voi. Un saluto e un ringraziamento per questa opportunità e arrivederci presto. Buongiorno, sono Pinuccia Sgambellone, presidente dell'associazione Giglio Onlus. Questa associazione è nata 19 anni fa con l'intento di ospitare gratuitamente i genitori dei bambini ricoverati in qualunque reparto dell'ospedale Regina Margherita. In effetti abbiamo iniziato la nostra attività allestendo uno spettacolo teatrale chiamato la famiglia Fontrap. Da allora abbiamo messo in piedi nove spettacoli per un totale di 110 repliche. In questo modo siamo riusciti in 19 anni a affittare sei appartamenti e a darli per questo servizio. Nel 2016 però, accorgendoci che le famiglie rimanevano molto sole negli appartamenti che avevamo messo a disposizione per loro, abbiamo deciso di riunirle tutte sotto uno stesso tetto. Ecco che abbiamo scelto allora in centro, in via Capelverde 2, uno spazio di 800 metri quadri che ci è stato dato in comodato d'uso gratuito e lo abbiamo ristrutturando ricavandone 12 piccole camere con un bagno privato. Tutta la parte diurna invece è condivisa ed è formata dalla cucina, dalla sala polivalente e da una lavanderia. Ecco che allora le nostre famiglie possono sicuramente vivere il loro periodo in un'atmosfera leggermente più amicale e leggera. E questo è il nostro intento. Per fare questo ovviamente organizziamo moltissimi eventi. Il Covid ci ha un po' gelato, però stiamo ricominciando a organizzare appuntamenti conviviali dedicati a tutti coloro che vogliono partecipare. Il nostro sito è www.casagilio.org. In questo momento stiamo ricercando volontari e associazioni di malati in qualunque regione d'Italia che vogliono comunque utilizzare i nostri servizi. Grazie, arrivederci. Buongiorno, sono Mara Antonaccio, il presidente dell'Associazione Giuseppe De Maria che organizza il Master Mario Soldati in comunicazione turistica ed enogastronomica. Il Master nasce con l'intento di formare delle qualifiche professionali che siano in grado di comunicare il mondo del turismo e dell'enogastronomia. Sappiamo bene che se questi ambiti non vengono comunicati non esistono. Grazie alla nascita dei social media e grazie a questo tipo di implementazione abbiamo imparato a conoscere prodotti locali, abbiamo imparato a conoscere le realtà a un tempo lontane che non era possibile raggiungere e conoscere in altra maniera. Il Master ha una caratteristica particolare e altamente professionalizzante e rivolto ai diplomati, ai laureati, a tutti coloro che hanno la passione di comunicare il turismo e l'enogastronomia e che vogliono formarsi in questo settore. Il Master nasce nel 2020 grazie a un'idea del dottor Guido Barosio, il direttore di Torino Magazine e si svolge in circa 100 ore di lezione in cui vengono affrontati argomenti come la scrittura, come la comunicazione, l'apprendimento dell'utilizzo dei social, la creazione di un addetto stampa. Le lezioni vengono tenute in presenza e da remoto e abbiamo un parterre di professionisti di altissimo livello, Valerio Saffirio, Paolo Verri, molti altri comunicatori molto capaci nei propri ambiti. La prossima edizione del Master partirà a settembre e gli allievi, esattamente come l'edizione appena terminata, verranno strutturati per la preparazione dell'elaborato finale in una sorta di redazione ideale, quindi impareranno sul campo a produrre un progetto editoriale, un progetto comunicativo con il business plan, con lo studio di fattibilità, quindi in maniera assolutamente pratica. Nelle ore di lezione sono previste anche delle uscite sul territorio per visitare aziende, per visitare le cucine dei ristoranti stellati, per far toccare con mano agli studenti la realtà di questo settore. Ci siamo ispirati alla figura di Mario Soldati perché è stato l'antesignano dei comunicatori del turismo e dell'enogastronomia. Ricordiamo tutti le bellissime trasmissioni che fece alla fine degli anni 50 in cui svelò il territorio italiano al pubblico e fece conoscere zone sino ad allora assolutamente sconosciute. Il master prevede un colloquio di selezione al quale vengono sottoposti i candidati che porta poi all'iscrizione. Contiamo molto sul periodo di grande ripresa che ci sarà nei prossimi anni perché comunque questi due settori sono settori trainanti per l'economia italiana e quindi offrono tantissime possibilità di lavoro a chi vuole approcciarsi a questo tipo di attività. Il master accoglie qualunque tipo di tendenza che riguardi l'ambiente e il turismo e l'enogastronomia e quindi vi aspettiamo. Grazie, arrivederci. Buongiorno, sono Marina Antonella e sono la presidente dell'Associazione degli Amici dell'Arte di Pianezza. Sono qui per presentare una delle ultime esposizioni che sono state fatte nel territorio relativo a un pittore pianezese, Mario Lisa, che ha vissuto negli ultimi anni della sua carriera nel paese e ha lasciato una serie di quadri, di esposizioni, di pitture, soprattutto relativo alle nature morte e alcuni quadri che sono poi stati recuperati durante i suoi viaggi relativi anche a paesaggi del suo percorso come pittore anche internazionale perché ha viaggiato in parecchi posti dell'Europa. Questa mostra è un ringraziamento proprio per questo pittore Mario Lisa che ci ha lasciato una serie di piccoli quadri che per ora rappresentano dei piccoli gioielli legati a questa sua evoluzione artistica. Il bello di questo è stato proprio quello di recuperare tutto il patrimonio che nel nostro paese è stato fatto non solo grazie a lui come pittore ma abbiamo riscoperto anche le attività di altri personaggi importanti come lo scultore Calvetti che ha iniziato la sua carriera artistica prima come fotografo poi è passato all'opera scultorea e quindi abbiamo trovato nelle ville del nostro territorio tutta una serie di busti o sculture legate proprio al territorio al personaggi importanti come adesso stiamo recuperando la statua di Alessandro Magno e altri busti di persone importanti che questi autori pianizzesi hanno cercato di lasciare nel territorio abbiamo infatti fatto già diverse mostre su questi nostri pittori e scultori e abbiamo cercato anche di recuperare e valorizzare le ville del territorio che una volta venivano utilizzate anche come luoghi di villeggiatura infatti Pianezza è molto ricca di ville antiche con relativi giardini che sono stati anche questi recuperati e vengono anche svolte le mostre all'aperto e ultimamente stiamo anche facendo dei concerti di musica classica nei giardini proprio perché vogliamo invitare il pubblico pianizzese a conoscere quello che è stato il passato storico del territorio un passato che ha lasciato veramente qualcosa di bello, di importante che va curato e la nostra associazione cerca proprio di raccogliere tutti questi reperti tutte queste opere e esporle al pubblico attraverso queste mostre che facciamo tutti gli anni la mostra di Valiolisa ha avuto un successo di pubblico anche se è durata poco ma la raccolta dei suoi quadri sono durate anni perché erano disperse un pochettino che sono addirittura di quasi dimenticate e noi quello che come associazione stiamo cercando proprio di fare è raccogliere tutti quei piccoli gioielli che ci sono nel nostro territorio che hanno bisogno di essere rispolverati e presentati al pubblico ecco perché noi siamo veramente diciamo orgogliosi di questi nostri piccoli artisti che hanno fatto grande pianezza che sono veramente notevoli come opere e infatti aspettiamo, ci attendiamo che il pubblico ci accolga numerose le nostre inviti quando insomma svolgiamo la nostra attività che pubblichiamo che cerchiamo insomma di pubblicare attraverso i nostri inviti e alle mostre e vi ringrazio a tutti e vi auguro buona giornata Buongiorno, sono Alessandro Bollo, sono il direttore del Polo del Novecento il Polo del Novecento è una realtà torinese che adesso ha quasi più di 5 anni di vita è uno spazio culturale polifunzionale perché ci sono attività molto diverse c'è un museo, ci sono archivi straordinari, ci sono biblioteche, sale lettura spazi performativi, attività per i ragazzi ma soprattutto il Polo del Novecento è la casa di tantissimi enti partner associazioni, fondazioni che fanno cultura insieme al Polo del Novecento per la cittadinanza in questi anni il Polo del Novecento ha molto aumentato le sue iniziative le sue progettualità, poi vedrete anche ha ampliato i suoi spazi ma soprattutto ha ampliato la compagine dei suoi enti come vi dicevo in particolare è iniziata con 19 enti che l'hanno costituito la famiglia per così dire si è allargata e proprio in questi giorni sono entrati 4 nuove realtà quindi negli anni il numero degli enti partecipanti è arrivato a 26 per noi è molto importante perché i 4 enti partecipanti sono la fondazione Bottari Lattes, sono il Cesi che è il centro Einstein di studi internazionali l'Arci di Torino e l'associazione Twitteratura quindi si tratta di realtà molto diverse, importanti alcune anche fuori Torino e questo ci consente di espandere anche la progettualità che è una progettualità ormai piemontese portando appunto progetti, linguaggi e esperienze diverse nell'animazione culturale, nello sviluppo anche di nuove tecnologie e di nuovi formati per coinvolgere i ragazzi per coinvolgere la cittadinanza che è poi un po' l'obiettivo della nostra attività l'altro grande aspetto se vogliamo di novità per noi è la possibilità di ritornare di nuovo in presenza dopo un anno e mezzo ovviamente di sospensione per il Covid e il ritornare in presenza vuol dire per noi anche poter beneficiare di uno spazio nuovo la pedonalizzazione infatti di Piazzetta Antonicelli di Via del Carmine consente al Polo, ai suoi enti ma anche ad altre realtà del territorio di poter valorizzare e sfruttare appunto uno spazio all'aperto ed è quello che succede praticamente tutti i giorni attraverso una modalità di sperimentazione della pedonalizzazione che durerà tutta l'estate e arriverà avanti fino a ottobre questo consente ad esempio di fare attività per i ragazzi di poter ospitare delle postazioni studio nello specifico c'è un bellissimo progetto che abbiamo realizzato con le biblioteche civiche di Torino che si chiama La Poloteca che è la possibilità proprio di organizzare dal lunedì al venerdì, la mattina e il pomeriggio delle attività di lettura, delle attività aiuto compiti delle iniziative di gruppi che riflettono, che approfondiscono, che giocano per i bambini ma non solo abbiamo poi delle altre attività perché ovviamente anche gli antipartner del polo fanno progetti utilizzano il nostro cortile interno e soprattutto poi il polo del Novecento ha deciso che andare fuori all'aria aperta sarà un po' la cifra della programmazione di quest'estate e quindi faremo anche concerti, faremo musica faremo attività culturali di varia natura lo faremo anche andando fuori da quel perimetro coinvolgendo ad esempio con il lavoro della rete italiana di cultura popolare l'area di Porta Palazzo, di Piazza della Repubblica con la portineria di comunità faremo dei festival, delle iniziative e poi ci saranno delle attività invece mobili in giro per la città in particolare ne cito una che ci sta molto a cuore coordinata dal nostro museo il Museo Diffuso della Resistenza questa iniziativa che si chiama Dirittibus ed è un'iniziativa proprio volta a portare in giro per la città le nostre iniziative allestiremo proprio un autobus l'ex bibliobus delle biblioteche civiche con dei libri legati ai diritti andremo nelle diverse circoscrizioni e coinvolgeremo anche qui la cittadinanza le persone, i ragazzi sulle grandi sfide della contemporaneità sui diritti parleremo di ambiente parleremo di immigrazione parleremo di giovani parleremo di genere che sono poi i grandi temi che affrontiamo nella quotidianità le attività appunto che faremo nella piazza ma le attività che svolgeremo nella programmazione quindi il consiglio di seguire anche le attività online quelle che continuiamo a fare andando sul sito del Polo del Novecento e seguendo i nostri canali social I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale Buona visione